Assolutamente di rilievo, assolutamente importanti e l'altra volta abbiamo detto le ville del Falerno per una narrazione anche di eccellenza enogastronomica. Stasera invece parliamo di quella che è stata ribattezzata in modo secondo me assolutamente felice con una grande intuizione la grotta del saluto, un dragone può vantare di avere anche nel campo della pre-storia da raccontare tanto, ci sta escluso fin da ora l'assenza per motivi di impegni personalissimi del professore Piperno che da sempre ci accompagna, ormai sono vent'anni, il professore che ha insegnato tra l'altro all'Università La Sapienza di Roma che ha condotto numerose missioni in Etiopia, Eritrea, mi corregga il professore Corlina se sbaglio. Però dicevo la grotta del saluto, ecco qui, noi continuiamo una narrazione di fatti assolutamente importanti, perché è importante la grotta? Io ce lo diranno in termini più scientifici, dicevo fra poco i nostri archeologi, ma possiamo dire questo, ed è il punto nodale, a Mondragone c'è stato il passaggio di consegne, se possiamo dire così, dall'uomo di Neandertal all'uomo Sapiens, non succede da questo. è diventato una risorsa e che pian piano inizia a diventare qualche, diciamo un punto fondamentale per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali. Io a Carmine Collina devo fare un ringraziamento particolare perché penso che io ho iniziato a dare attenzione alla grotta della Roccia San Sebastiano e a questa campagna di scavo da giovane assessore e lui pure era più giovane di adesso, oggi è professore all'Università della Sapienza e prima era ricercatore, fa era con il professore Piperno ed era un poco il mio riferimento per le domande perché io giovanissimo avevo il timore reverenziale nei confronti del professore Piperno anche per chiedere, quando andavo con la Zara, con Luigi, per chiedere dei chiarimenti rispetto a una cosa che vedevo negli stadi e con Carmine Collina avevo un po' più di confidenza perché io lo vedevo più giovane e quindi dico a lui mi auguro di non aver fatto una gaffa, quindi con simpatia oggi lo saluto da esimio professore, docente e che è cresciuto, mi auguro didatticamente e professionalmente anche grazie a questa città e a quello che questa comunità ha voluto consegnare nelle sue mani, così come il nostro direttore Luigi Crimaco ha voluto che questa campagna di scavo, ha voluto condividere con noi che questa campagna di scavo andasse avanti e potesse mettere in luce dei risultati, diciamoci la verità, la preistoria non è, ecco l'altra volta io facevo un esempio per chi c'era sabato scorso, aver iniziato a finanziare una campagna di scavo e l'età romana è stato un momento di grande gioia per me in qualità di amministratore perché l'età romana su questo territorio, dicevamo, era un poco inviolabile, no? La preistoria, con il permesso di Carmine, è meno bella da vedere soprattutto quando si inizia, no? E questo allora fa capire ancora di più l'aspetto, l'importanza scientifica della campagna, cioè è la tenacia, la determinazione anche della comunità che attraverso gli amministratori e i professionisti che vengono sul territorio vanno avanti a continuare quelle indagini che ci faceva vedere meno in termini di divulgazione agli altri, ma di più in termini scientifici, oggi inizia ad essere anche bella da vedere per il passante e per chi si trova a trascorrere una mezz'ora in allegria. Questo perché si è lavorato parecchio, si è riuscito, grazie anche ai professionisti che stasera abbiamo qui seduti al tavolo, a costruire dei percorsi comunicativi che ci consentono di mettere insieme l'indagine scientifica degli ultimi 15 anni. Allora, insieme alla campagna di scavo dell'età romana, insieme a quella del medioevo, alle ricognizioni dell'età arcaica, alle indagini subacue, Mondragone è un unicum in termini di finanziamento di campagna di scavo, in termini di utilizzo di risorse per la cultura e consentitemi. Esistono, e così concludo, ma senza vena di polemica perché noi mondragonesi dobbiamo sapere quello che facciamo e che facciamo tutti insieme perché non lo fa il sindaco, non lo fa l'assessore, non lo fa il consigliere e non lo fanno neanche il direttore del museo, i professionisti, gli archeologi, lo fa una comunità. Qualche tempo fa si è voluto riportare un giudizio sugli ultimi anni dell'amministrazione comunale Mondragone riprendendo dei dati che si possono ritrovare su internet facilmente e questo è un grande guaio con sentitemi questa digressione perché molto spesso internet, l'accessibilità a internet da parte mia che non comprendo ciò a cui sto accedendo mi fa sbagliare ancora di più di quello che avrei potuto fare ieri senza conoscere quei dati. Mondragone solo per un esame del nostro bilancio parziale, solo perché andando ad analizzare un dato, un termine di finanziamento per la cultura prettamente parziale, poteva venire fuori da parte di chi e andava a giudicarlo che investiva poco in cultura. Senza scimmiottarlo sui giornali il sindaco di questa città si è preoccupato di dimostrare a chi lo diceva che Mondragone investe in cultura attraverso queste opere nel 60-65% di più rispetto a tante altre realtà perché Mondragone sta recuperando un tempo andato, sta investendo quanto avrebbe dovuto fare negli anni addietro e oggi avrebbe dovuto capitalizzare. Questo ritardo lo stiamo investendo nei beni culturali e in termini di indagini e campagne di scavo. Quindi se ritorniamo su questi argomenti, su quanto una comunità si possa legare all'aspetto culturale, io da fiero Mondragonese dico, e non grazie a Giovanni che vi sta parlando, ma grazie a chi c'è stato prima da Achille a Duco, a tutti, a Luigi Nunziata, a Michele Zarnini, grazie a chi è che ha creato un percorso in questa città, Mondragone sta investendo tantissimo in cultura e il ritardo che c'è sul territorio, che ci fa vedere poco la commercializzazione di quello che stiamo investendo. Ma questo non significa che Mondragone non è sensibile alla cultura, alle tradizioni, alla storia di questo territorio e anche a un indotto che negli anni certamente verrà e verrà proprio perché oggi stiamo facendo questi sacrifici e ci stiamo arrogando, consentitemi, il lusso di poter dire che Mondragone è una città che investe in beni culturali. Grazie. Grazie il sindaco Schiappa per il suo appassionato intervento. Un brevissimo passaggio è che io devo ringraziare delle persone perché quando si dice il senso di comunità su cui noi ci raccontiamo stasera... per me è stato sempre un modo di vantarmi perché io ho sempre detto che qui da noi non esisteva né destra né sinistra, esisteva la cultura e tutti in ugual misura l'hanno condivisa. E poi c'è stato qualche episodio scritto su internet in cui ho provato molto dispiacere perché vedete a me fanno ancora male le mani a forza di dare piccolate sul terreno e lo faccio con grande piacere perché lo facciamo, è un lavoro durissimo che facciamo e la testimonianza di questo è lì e Carmine lo sa bene di cosa sto parlando e lo sa Barbara, lo sanno tutti quelli che qui in sala vedo che partecipano agli scavi. Noi lavoriamo in maniera dura ma proprio dura pala e piccone, anche per varie ore al giorno, ma non voglio stare qui a dire questo perché abbiamo un unicum, abbiamo un tesoro, così ben detto il sindaco un attimo fa, abbiamo un tesoro inestimabile ed è un tesoro che deve essere valorizzato tutti i giorni anche con il pensiero, non può essere assolutamente trascurato, questo lo dico a tutti, lo dico a voi docenti che avete il compito difficile di insegnare ai ragazzi, di comunicare queste cose, lo dico a tutti, pensate che le scoperte nella grotta di San Sebastiano sono un unicum, certo, diamine, l'uomo di Render tra la Mondragone, un crocevia anche questo per quello che è stato la preistoria, cioè il passaggio tra un sistema culturale a quello del Sapiens e poi siamo noi poi i Sapiens e è straordinario, altro unicum, bene, le ville del Falerno, il Falerno era un fenomeno che esisteva solo in questo territorio, in tutto il mondo romano che era un mondo sterminato che andava dall'Asia fino all'esterno costello, chiedevamo il suggerimento da casa perché poi il professore è veramente alla mano, però quando diceva glielo ho già raccontato, oddio, siamo persi, grazie. Va bene, ma posso andare senza microfono? Sì, meglio, meglio. Va bene, allora io innanzitutto porto, sì, forse sì, innanzitutto porto il saluto del professore Di Perno che come vedrete è l'anima di questo intervento dopo le parole del sindaco e dopo le parole di Luigi, perché per me stasera è la dimostrazione che è possibile un'archeologia di comunità, è una delle cose su cui spesso noi archeologi discutiamo e devo dire che stasera è ancora una volta la dimostrazione che il Museo Civico Biagio Greco fa archeologia di comunità, archeologia di comunità è un'archeologia di responsabilità, di cittadinanza, è un'archeologia che gira attorno ai cittadini e grazie a questo museo c'è un circolo virtuoso che va dalla tutela, alla valorizzazione, al senso di appartenenza, tutti siamo mondragonesi quando vediamo qua, è questa la verità. E poi, cosa non secondaria, noi sentiamo la responsabilità, noi mettiamo l'anima in quello scavo, come Luigi diceva prima, ma perché tutto questo è possibile grazie a questo museo. Quando io vado a fare le conferenze e vado a lavorare con i miei colleghi preistorici, che non sono sempre divertenti come il professore Piperno, porto sempre a modello le buone pratiche che stiamo realizzando al Museo Civico Biagio Greco di Mondragone, perché vi assicuro che uno è un gioiello oggi in Italia, per vedere quello che succede qua, dovete andare in Francia, dovete andare in Inghilterra. E comunque, fatta questa premessa, vado rapidamente, perché in teoria avevamo strutturato un intervento un po' più, diciamo, accademico, un po' più noioso. Però io andrò di fretta sulle mie slide, perché ho premura di farvi vedere il documentario che in questi anni abbiamo realizzato, e questo documentario è il ponte tra la scienza e il pubblico, ed è il ponte che farà amare ancora di più questi luoghi, farà amare ancora di più questa terra, perciò voglio che poi in anteprima voi possiate godervelo per intero, alla fine dell'intervento. E torno al saluto che diceva il dottor Nazaro, da Leanderthal al Sapiens. In questa grotta, forse si possono abbassare un po' le luci? E' un po' di profondità. E comunque, in tutta questa sequenza, noi documentiamo, possiamo documentare questa transizione, questo passaggio tra il paleolitico medio, l'ultimo paleolitico medio, dove l'attore è l'uomo di Neanderthal, e poi il paleolitico superiore, le culture dell'uomo sapiens, cioè noi. Se qualcuno comincia a venire ai confini dell'Europa, a un milione di anni l'Erectitus, l'antecessor, siamo in Europa, è cominciata una cultura preistorica, praticamente, per usare un termine greco, c'è una coine, dappertutto, in Asia, in Europa, ed è quello che chiamiamo cultura ausceliana. Dopodiché, a 500 mila anni, in Africa compare un altro uomo, l'Eidelbergensis. Questo è probabilmente il progeritore sia del Neanderthal e sia del Sapiens. A 200 mila anni, questi due uomo abitano terre diverse, abitano il Sapiens soprattutto in Africa, fa la sua comparsa in Africa, e il Neanderthal, dall'Eidelbergensis,